Abbiamo cercato di interpretare un po' di colore nell'uomo perché comunque c'è tanta voglia di colore. Ringraziamo tutti, ringraziamo le persone che sono venute ospite, ringraziamo lo staff ed è stata una bella serata. Eleganza è la parola d'ordine della sfilata per la presentazione della nuova collezione sposo e cerimonia uomo-donna di scena all'atelier per Lecchia, in passerella abiti da sogno e ricercati. Colori, linee sartoriali e lo stile inconfondibile dei migliori brand di moda disponibili nella storica attività che continua ad essere punto di riferimento per clienti ma anche per stakeholder del comparto moda. Abbiamo cercato di, come dire, interpretare un po' di colore nell'uomo perché comunque c'è tanta voglia di colore. Lo sposo resta un grande classico con il blu e il nero perché è quello che lo caratterizza, però insomma è la cerimonia, poi le donne sono sempre belle. Una serata speciale in cui i partecipanti all'evento hanno avuto modo di vivere un'esperienza non solo attraverso lo stile e la bellezza ma anche immersi nel gusto. Gli ospiti infatti sono stati deliziati da una selezione di vini e pietanze da assaporare accompagnati da un intrattenimento musicale. Grazie a tutti!